Presidente, ben trovato! Molto piacere di dirlo, complimenti per il discorso, grazie di questa visita! E ora? Siete, tre, tre, tre! Molto piacere di dirlo... Ma certo, ma certo... No, veramente, non parece, è pinocchio. Grazie. Un problema europeo, normalità. C'è quanto? Grazie, grazie. Sono buone? Abbastanza. Vediamo, vediamo. Se non sono buone me le tira. Facciamo così. Vediamo, proviamo. È una blu già. È fatta sul corpo. Non lo tolto a prever. Le l'apro io. No, 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 no. Grande! Grazie. Grazie a tutti. Io sono venuto da Portugale. 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 Portugale un po' anche in Torres. Grseppone. Qualun pietra? Per minimi parlo. Vi alcoholic. Berenduno adesso? B 무�ASS! Stiamo tirando qui un po' più perfetto. Qui c'è il torsino d'onore dove facciamo le nostre testimonie. Adesso la compagna giù nella nostra sala rossa per firmare il libro d'onore. Grazie.